Siamo appena arrivati in Spagna, inizia questo... no, il selfie no adesso. Ragazzi, impressioni del volo? Ero finissima, ci vediamo. Ero finissima. Ero finissima. Dopo un viaggetto di tre ore siamo arrivati ora a Saragozza. Ero finissima. Ero finissima. Ero finissima. Una piccola pausa qui in mezzo a nulla e adesso il viaggio riprende in pullman verso Madrid e poi è fatto rito. Ero finissima. Un'ora di cinque e mezza, siamo appena arrivati a Toledo. Ero finissima. Ero finissima. Ero finissima. Ero finissima. Ero finissima. Ero finissima. Ecco. Quindi questo è l'ultimo giorno di viaggetto qui in Spagna. Ero finissima. Oggi finissima di visitare Toledo. Speriamo di fare qualche bella ripresa. E poi si va a Madrid a aereo e si torna a casa a studiare. Ero finissima. Ero finissima. Ero finissima. Qu'emozione. Ok. Oppa! Grazie a tutti. Siamo arrivati a Madrid. Grazie a tutti.